Il pallone è da posizione interessante. Hanno pagato veramente caro la troppa foga dimostrata in fase di pensina, poi bravissimi gli avversari nel sfruttare l'occasione. Il pallone che si è inzaccato è il portiere, non ha potuto nulla. Calcio di punizione da manuale, una traiettoria ed artista, il portiere è evidente. Hanno pagato veramente caro la troppa foga dimostrata in fase di pensina, poi bravissimi gli avversari nel sfruttare l'occasione. Aumenta ancora l'intensità della spinta dei tifosi di casa che vogliono trovare subito il gol. Lo stadio è una vera boggia, il pubblico... Ma forse in effetti ci stava solo il giallo. Hanno pagato veramente caro la troppa foga dimostrata in fase di pensina, poi bravissimi gli avversari nel sfruttare l'occasione. E' un gol questo che li ripaga per tutti i loro sforzi. Calcio di punizione da manuale, una traiettoria ed artista, il portiere è rimasto fermo a guardare. Traiettoria ed artista, il portiere è rimasto fermo a guardare. Traiettoria ed artista, il portiere è rimasto fermo a guardare.